Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo vinto, che era il principale obiettivo per garantire il primo posto nel gruppo. I ragazzi hanno giocato molto bene e abbiamo vinto bene. La partita con Napoli è passata, la squadra ha fatto tante cose bene che non puoi perdere fiducia con la partita di Napoli. È stato un giorno più difficile, ma penso che sia importante superare. Abbiamo finito la partita, abbiamo parlato, iniziamo a pensare in questa partita quanto era importante vincere, quanto era importante fare una buona partita e devo dire che sono molto soddisfatto con tutti i giocatori. È importante per un allenatore sentire che puoi contare con tutti i giocatori. Quando cambio è perché ho fiducia nei giocatori e oggi penso che tutti hanno capito questo, che è importante fare bene quando giocano e questo mi dà più fiducia nei giocatori che normalmente non hanno giocato. Abbiamo qui i giocatori che hanno avuto problemi, stanno recuperando adesso, è importante farlo giocare. Come ho detto, per me è molto importante sentire che tutti i giocatori sono concentrati e con voglia di entrare nella squadra. E' buono per aumentare la competitività interna e la competitività nella squadra. Io parlo sempre che dobbiamo essere equilibrati. Quello che si dice fuori non può entrare nel spoglatorio. Dobbiamo capire che siamo forti, che stiamo giocando bene e che non può essere un risultato che può cambiare la nostra fiducia. Per me è importante non sentire e rimanere con fiducia, concentrato e con ambizione. Penso che oggi abbiamo dimostrato ambizione e che questo risultato con Napoli è superato.